Ma comunque mi vorrei solamente domandare una cosa, mi sente che il BIM è già schegli a Tizio, Caio, Sampronio per fare manifestazioni, per fare questo o per quell'altro. Mi chiedo io, non è che adesso ci sono nel deficit, ci sono nei problemi, a compagnia, e sì, alla fine della viera mi ha dato schegli a tutti a compensare politiche, a compensare favori per compensare questo e questo. Allora adesso mi domanda di schegli a noi, ma prima di andare in schegli in giro, se non devi andare a fare la scheglia, scusate, scusate il tono ma mi parte come le mani, grazie.